Dopo due mesi l'Aquila torna a vincere al Fattori e bissa a distanza di tre giorni il successo di Carrara. Nel recupero della ventiquattresima giornata contro il Tutto Cuoio finisce 1-0. Risultato che sta stretto agli uomini di Zavettieri che su un campo al limite della praticabilità hanno avuto l'unica colpa di non chiudere la gara, nonostante la superiorità numerica sin da inizio primo tempo. Per la sfida al Tutto Cuoio Zavettieri conferma il fido 4-2-3-1 con i rientri dal primo minuto di Corapi e Pacilli. In difesa si rivede Capitan Pomante al fianco di Zaffagnini. Al quarto d'ora subito l'episodio che spezza in due la partita su un lancio di Corapi uscita sconsiderata del portiere Morandi che blocca la palla fuori area da ultimo uomo e viene espulso. Tutto Cuoio in 10 senza baci squalificato a subentrare la giovanissimo portierino classe 97 Cesare Micheli, il migliore a fine partita dei suoi all'esordio assoluto tra i professionisti. Al minuto 20 proprio Micheli intercetta così la conclusione a botta sicura di San Domenico. Cresce di intensità il match. Triarico dalla sinistra doppio passo, palla al centro, recupera Pacilli che prova ancora a rimetterla nel mezzo. San Domenico controllo, giocata e ancora Micheli, super, a Negardi il decimo gol in campionato. Gol mangiato, gol subito? Quasi. Gioè infatti due minuti più tardi davanti a Zandrini, ci prova ma il portiere dell'Aquila è sublime nell'intercettare la traiettoria. Scampato il pericolo, i tempi sono maturi per il vantaggio aquilano. Minuto 38, Corapi, palla sotto la suola, sguardo al centro, palla nel mezzo, di schiena. Gol di Andrea Scrugli, secondo in campionato per il terzino di Tropea che aveva segnato il primo centro stagionale proprio nella gara di andata, finita 1-1. Nella ripresa cala vistosamente il ritmo. L'Aquila non la chiude e il tutto cuoio ci prova dalla distanza come al 59esimo con Serrotti che chiama alla presa a terra Zandrini. Entra Pozzebon che ha subito un'occasione scodellata di un sontuoso De Francesco Pozzebon, si fa però parare il tiro, poi Corapi murato ancora sul tapin. Al minuto 71 è il turno di Pacilli, sinistro chirurgico, gran parata di Micheli che si distende mandando il pallone in corner. Le ultime due chance del match sono una per San Domenico, sponda aerea di Pozzebon, tiro però strozzato del numero 10 De Rossoblu. Quindi proprio Pozzebon che all'atto del dunque viene bloccato dall'ex ingrosso. Finisce così, tre punti che fanno salire l'Aquila al quarto posto scavalcando il Pisa. C'è ancora qualche residua speranza per i playoff, ma il trucco è non pensarci. Testa solo a domenica, al Sant'Arcangelo, per i conti e la classifica c'è tempo sino al 10 maggio.